La verosimile motivazione era data dal fatto che la sorella, quindi la compagna della persona deceduta, era vessata e maltrattata e oggetto di lesioni da parte appunto del proprio compagno. Ci hanno impiegato meno di un giorno i carabinieri di Legnano comandati da Francesco Cantarella per risolvere l'omicidio del pluri pregiudicato Gennaro Tirino, ucciso con almeno sette colpi di pistola il 27 settembre in una strada di Legnano nel Milanese. I militari hanno posto in stato di fermo il 29enne fratello della fidanzata della vittima che ha confessato il delitto spiegando che il 38enne carroziere malmenava sua sorella. Proprio due giorni prima del delitto la donna aveva denunciato il compagno alla polizia dopo essere finita in ospedale per le botte ricevute. Durante una perquisizione proprio a carico del soggetto poi fermato nella propria abitazione all'interno di un paio di pantaloni sono stati rinvenuti tre colpi inesplosi di calibro compatibile con quelli rinvenuti sul luogo del delitto e questo è stato un ulteriore tassello che ci ha permesso di proseguire sulle nostre ipotesi.